Il ministro Franceschini ha illustrato i bandi internazionali per la selezione dei nuovi direttori di musei e parchi archeologici statali. Sentiamo Laura Sansavini. A chi saranno affidati i capolavori della Galleria Borghese di Roma, i celebri marmi del Bernini come la Polle Daphne, l'iconico amor sacro e amor profano di Tiziano, la famosa Paulina Bonaparte del Canova? Chi avrà le chiavi del Palazzo Ducale di Mantova con i suoi tesori affrescati come la Camera degli Sposi di Andrea Mantegna? Sono questi due dei 13 musei autonomi che cercano un nuovo direttore, dal Vittoriano e Palazzo Venezia al Parco archeologico di Ostia Antica, dal Museo Nazionale d'Abruzzo alla Pienacoteca di Bologna. Dirigere, conservare e comunicare al meglio un pezzo del nostro immenso patrimonio culturale, una sfida importante per il futuro del nostro paese, un incarico della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro. Il bando da oggi sul sito del Ministero. Per presentare domanda c'è tempo fino al 3 marzo. Vorremmo avere i migliori che concorrono per dirigere le collezioni uniche al mondo dei musei italiani. L'incontro con la stampa è stata occasione per fare il punto sui timori legati al coronavirus. Il ministro su questo ha precisato che sui flussi turistici con la Cina in entrambe le direzioni potrebbe esserci qualche impatto.